Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, il piacere di stare insieme l'amministrazione comunale che incontra la città attraverso dei momenti di arte e cultura, penso al Tedeum, penso alla mostra pittorica, penso al momento dell'enogastronomia, tanti motivi e tanti momenti per promuovere il territorio. Con piacere e per me un onore questa sera aver ospitato qui nel castello il Tedeum con il coro Coraliter, ma soprattutto portare ai fasti che merita, all'eccellenza che merita Giovanni Paesiello perché è stato ed è un musicista amatissimo a livello internazionale, ma non solo, abbiamo la mostra della pittura napoletana qui nel nostro castello questa sera e abbiamo l'eccellenza che comunque è di Leporano, di Vini e Vini che ormai si è affermata e continua ad affermarsi a livello internazionale. Sindaco, una serie di eventi che coinvolgono non solo i Leporanesi ma coinvolgono l'intera provincia e non solo? Beh, chiaramente pensiamo con il nostro programma e con queste manifestazioni di coinvolgere non solo la provincia ma l'intero sistema, anche nazionale. Siamo contentissimi e felicissimi di muoverci in questo senso come Leporano e chiaramente ci attiveremo anche per le prossime manifestazioni a trarre quanto più possibile e portare questo territorio alle eccellenze che merita.